Scusate, mi chiedo un attimino di silenzio, dopo una vita da cazzone ci sono volte... Ehi, 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 silenzio, ma una cosa importante per me e per il resto del frutto. Scusate, ci sono volte che fai delle cose importanti con alcune persone e noi l'abbiamo fatta con alcune persone che sono preso questo palco, con chi da più tempo, con chi da meno tempo, ma abbiamo diviso veramente tantissime cose. Questa sera sarà l'ultima serata di due persone su questo palco e vi chiedo di fare un applauso moltissimo, unicamente per loro perché abbiamo dato tanto a noi e abbiamo dato tanto a noi. Claudio Almasso e Claudio Almasso Assessore. Ehi, cammino con la Torsina e la Raptorante a Puntamorco! Torsina! Interv Resurdo Almasso Assessore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.